Due incidenti mortali domenica tragica ad Urbania. A Pesaro una nuova sede per il 118 e la centrale della protezione civile. Partita la pulizia della zona mare ma c'è chi non rispetta i divieti. Gli 80 anni di infiniti traguardi di alceste vitri. L'impegno del banco di solidarietà per le famiglie indigenti. Buona serata, benvenuti al nostro telegiornale. Oggi è lunedì 23 ottobre. Apriamo questa edizione dandovi notizia purtroppo di due incidenti mortali avvenuti ieri entrambi nel territorio di Urbania. Entrambi con vittime urbaniesi. È morto ad appena 19 anni Mattia Tancini, giovane muratore schiantatosi alle 3 e 30 di notte contro un albero in via Mazzini mentre era la guida del suo Fiat Doblò. Il giovane stava rientrando a Sant'Angelo Invado dove da qualche tempo viveva a casa del padre. Si sospetta un colpo di sonno alla base della tragedia. Sempre ad Urbania è morta ieri Luciana Bennati di 76 anni. Attorno alle 19 la donna è stata investita sulle strisce pedonali da un'auto mentre usciva dal Bar Bramante in via Roma. A travolgerla un'auto guidata da un anziano che ha tentato la frenata senza però evitare l'impatto fatale. Ora lasciamo la cronaca e ci occupiamo di un importante intervento di riqualificazione della regione Marche su Pesaro. Viene infatti ristrutturata la sala operativa della protezione civile nello stabile di via dei cacciatori che a lavori finiti diventerà anche la nuova centrale operativa del 118. Vediamo il servizio. Questa mattina la regione Marche attraverso l'assessorata alle infrastrutture di Francesco Baldelli ha presentato la consegna dei lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dello stabile che ospita la sala operativa integrata di protezione civile di Pesaro nella struttura compresa fra via dei cacciatori e via dei canonici. Un investimento importante della regione Marche per 1 milione 800 mila euro su una struttura che oltre a potenziare la SOI una volta ottimati i lavori diverrà anche la sede operativa del 118. Adeguiamo sismicamente un edificio strategico per la città di Pesaro ma per l'intera provincia la sala operativa Interforce che verrà adeguata sismicamente con un investimento di 1 milione 800 mila euro un lavoro incagliato da anni ma che sarà anche un edificio ad alta efficienza energetica. Emissioni zero dell'edificio e sarà un edificio di classe quarta quindi quegli edifici strategici che devono funzionare durante le emergenze. Questo lo facciamo ovviamente sugli edifici di protezione civile ma lo facciamo anche sugli ospedali. Il primo edificio regionale è no zero energy building quindi Enzebbe a consumo praticamente nullo. Credo anche architettonicamente sarà un bel edificio dove oltre alla SOI verrà ospitata anche la nuova sede del 118 e ci sarà quindi tutto il centralino delle emergenze con due ambulanze pronte alla partenza in caso di emergenze. Posizione importante strategica studiata a tavolino quindi benvenga anche tutta la parte del come diceva l'ingegnere del rispetto dell'operatività della struttura sul lato ambientale sul lato energetico quindi benissimo e andavanti così sicuramente poche parole ma facciamo sicuramente molti fatti rispetto a quello che pensano e dicono altri. Grazie all'assessore, all'assessorato e tutta la volontà del Presidente Acquaroli di tutta la giunta di cercare di portare a termine delle opere che magari sono iniziate nei presenti amministrazioni ma che erano rimaste incagliate quindi benissimo benissimo per la SOI per il 118 che aspetta questo stabile tantissimo tempo per ridare dignità degli operatori che lavoravano veramente in condizioni veramente veramente pessime. Un'altra notizia anche il Geno Civile di Pesaro sarà presto avremo anche la consegna dei lavori dell'adeguamento sismico, miglioramento sismico del Geno Civile di Pesaro. Pesaro in questo momento sta recuperando il gap dei decenni passati dei mancati investimenti Pesaro e la provincia di Pesaro e Urbino. Frutto della grande attenzione di questa maggioranza regionale nel recuperare le diseguaglianze territoriali. Quindi c'è stato un cambio di passo con la giunta Acquaroli. In questo momento il cambio di passo ormai dato per assodato diamo continuità all'azione della giunta Acquaroli con interventi strategici e puntuali in tutto il territorio. A cominciare dal capoluogo di provincia che davvero è rimasto indietro. Pensate alla quadrilatero. Quanti interessi aveva spostato in altre province marchigiane. Giusto quell'intervento. Oggi gli interventi li dobbiamo ribaltare sulla provincia di Pesaro e sulla provincia di Ascoli Piceno e Fermo che sono rimasti indietro rispetto agli interventi fatti nei decenni passati in altre zone del territorio. Come vi abbiamo anticipato i giorni scorsi è partita oggi la manutenzione straordinaria delle strade della zona mare di Pesaro con pulizie che dureranno fino alla fine di quest'anno. Al primo giorno di intervento molte auto però non hanno rispettato l'ordinanza dei divieti di sosta. Oggi lunedì 23 ottobre è scattato il primo giorno di due mesi di pulizia straordinaria dei viali della zona mare. E' partito oggi da Viale Trento il serrato calendario che fino alla fine del 2023 vedrà operatori e macchine spazzatrici al lavoro per la radicale pulitura di fogliame caditoie. Un intervento non solo estetico ma finalizzata ad agevolare il deflusso delle acque piovane ed evitare allagamenti. Intervento annunciato giovedì da Marche Multiservizi dall'assessore Enzo Belloni per divulgare il calendario che ogni giorno friale del mese vedrà divieti di sosta obbligati dalle 12 alle 18 per agevolare al meglio le pulizie. Divieti segnalati anche da cartellonistiche e da volantini nelle residenze di riferimento ma oggi al primo giorno di pulizia non sono state poche le automobili che nel tratto fra Viale Napoli e Viale della Repubblica hanno violato il divieto portando altro lavoro agli agenti della polizia locale che hanno viaggiato al fianco delle operazioni di pulizia. Operazioni che come da calendario proseguiranno ogni giorno friale dalle 12 alle 18. Il martedì si prosegue nel lato nord di Viale Battisti, il mercoledì nel lato sud di Viale Trieste, il giovedì nel tratto sud di Viale Trento, il venerdì nel tratto sud di Viale Battisti. Dalla pulizia delle strade passiamo ad un altro intervento a cura di Marche Multiservizi e sulla zona mare finalizzato all'installazione di nuove valvole della rete idrica in Viale Trento, incrocio con Viale della Repubblica. Segnaliamo quindi ai residenti che i lavori comporteranno una sospensione dell'erogazione dell'acqua domani, martedì 24 ottobre, fra le 8.30 e le 17.00 in tutta Viale della Repubblica, in Viale Trento dal civico 116 al 154, in Viale Raffaele Sanzio dal civico 19 al 25 e in Viale Vaccai dal civico 19 al 23. E completiamo il quadro delle informazioni di servizio ricordandovi che da questa notte chiuderà il traffico il cavalcaferrovia di Pesaro nell'orario compreso fra le 23 e le 5 del mattino. Come vi abbiamo annunciato nel Tg di venerdì scorso, la chiusura notturna durerà un mese, fino al 25 novembre infatti i lavori sul ponte entreranno nella fase più delicata, insistendo sopra i binari ferroviari. In accordo con rette ferrovie italiane i lavori saranno effettuati di notte per conciliarsi con il traffico dei treni. Da questa notte andrà dunque ragionata una viabilità alternativa al cavalcaferrovia che sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Ed ora cambiamo completamente argomento, andiamo a parlare di una festa, una festa molto importante, quella degli 80 anni di Alceste Vitri, industriale illuminato, patron di Rivacold, che ha celebrato questo compleanno speciale alla Vitrifrigo Arena, alla presenza di 1500 ospiti. Ha tagliato il traguardo delle 80 candeline Alceste Vitri, uno degli imprenditori più illuminati della provincia di Pesaro Orbino che con i suoi tre brand Rivacold, Vitrifrigo e RAV che compongono il gruppo VAG, ha creato nel polo di Vallefoglia un'eccellenza internazionale per la produzione di impianti di rifrigerazione che dura da oltre mezzo secolo. 80 anni di infiniti traguardi è stato il sottotitolo di una festa glamour tenutasi venerdì sera alla Vitrifrigo Arena, pala sport pesarese che porta proprio il nome di una delle creature zendali di Alceste. Una festa con oltre 1500 invitati, fra dipendenti, colleghi, collaboratori, autorità e pure la Carpegna Prosciutto Basket, una festa per 80 anni nel solco di una straordinaria parabola lavorativa. Per questo è emozionante, questi giorni ci pensiamo ma è emozionante vedere da quando sono partito tutti i traguardi arrivati e ancora ne abbiamo di strada a fare con la famiglia, con i figli, con la squadra, con i collaboratori che sono veramente bravi, abbiamo fatto delle buone scelte, perciò siamo tutti legati e penso che anche se sono tempi difficili li supereremo. naturalmente sto delegando, hanno fiducia e collaborano con me, io cerco di parlarne e consigliare. Hanno fiducia perché io vedo il futuro, magari meglio dire, di loro con tutti questi anni passati nel lavoro. Al fianco di Alceste i figli nonché vicepresidenti del gruppo VAG Alessandro e Roberta che hanno organizzato la festa. Abbiamo pensato di festeggiare questo compleanno così importante con tutti i nostri colleghi dipendenti e amici, infatti siamo in 1500, ovviamente l'organizzazione è stata abbastanza impegnativa perché così tante persone, però abbiamo avuto l'occasione di poterlo fare in questa arena che porta il nostro nome e quindi abbiamo trovato la location giusta, la compagnia giusta e l'abbiamo organizzata pensando a noi come noi siamo una grande famiglia, ci riteniamo una grande famiglia con tutti i nostri collaboratori e quindi abbiamo voluto regalare questa serata anche a loro di divertimento e di tante emozioni. E visto che Alceste Vitri da sempre ama girare in bicicletta fra i suoi stabilimenti produttivi, i dipendenti hanno ben deciso di regalare una bici da corsa al proprio presidente. Regalo che la famiglia Vitri ha fatto anche alla comunità pesarese con una donazione di 35 mila euro all'unità di radioterapia oncologica dell'ospedale di Muragna. Un compleanno ma è anche la dimostrazione del lavoro che in 80 anni è riuscito a fare Alceste Vitri, un grande lavoro industriale, tanto lavoro dato a tante famiglie della nostra provincia e al tempo stesso grandissimi risultati, risultati per sé, per la sua famiglia e il fatto che questo Palasport porta al nome di Vitri Frigo è anche la dimostrazione dell'attaccamento che ha al nostro territorio. Davvero questi imprenditori come Alceste sono l'architrave economica della nostra società, dobbiamo essergli grati e oggi ovviamente festeggiamo i suoi 80 anni e gli auguriamo ancora tantissimi anni a lui e alla sua famiglia di grandi successi industriali e di conseguenza di grande ricaduta economica e di benessere per tutta la provincia. E vi ricordiamo che potrete rivedere lo speciale che abbiamo realizzato durante la festa, per Alceste Vitri, questo mercoledì, quindi mercoledì 25 ottobre alle 21.20. Chiaramente potrete vedere tutte le interviste e tutti i personaggi che erano presenti. Cambiamo argomento e ci spostiamo a Fano dove i carabinieri hanno effettuato controlli straordinari nei luoghi della movida giovanile in seguito alle ripetute segnalazioni di vandalismi e comportamenti molesti, controlli che si sono concentrati nei quartieri Poderino, San Lazzaro e nel locale Sport Park dove sono state controllate un centinaio di persone. Fra queste tre minori sono stati segnalati per detenzione di stupefacenti per uso personale, mentre 5 grammi di marijuana sono stati trovati nascosti dietro un videogame dello Sport Park. Denunciata anche la presenza di un 25enne in un bar, nonostante sul soggetto gravasse la misura di divieto ai locali di pubblico intrattenimento di Fano. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha fatto tappa oggi nella frazione di Roncaglia, in cui procedono interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica per 1.700.000 euro. Intervento che produrrà sei unità immobiliari che risponderanno ad esigenze di emergenza abitativa. Oltre a questo intervento sono 11 milioni di euro di fondi PNRR stanziati in cantieri analoghi, che il Comune sta portando avanti a Borgo Santa Maria, Fiorenzuola di Focara e Monte Ciccardo. All'ospedale di Urbino è stato installato il nuovo mammografo di diagnostica per immagini. Si tratta di una strumentazione di ultima generazione, che permetterà uno studio diagnostico più efficace rispetto alla mammografia convenzionale e consentirà di effettuare un numero maggiore di esami dalle qualità clinicamente superiori. Anche questo weekend, come ogni mese, 100 volontari del Banco di Solidarietà hanno consegnato altrettanti pacchi alimentari a famiglie pesaresi in condizioni di povertà. Quella di sabato è stata una consegna ancora più speciale, perché coincisa con l'inaugurazione della riqualificata sede dell'associazione. Vediamo. 140 pacchi di generi alimentari prendono la strada di casa di altrettante famiglie pesaresi in condizioni di indigenza. È un gesto di impegno caritatevole che si ripete ogni mese. Quello con cui si rimboccano le mani che i circa 100 volontari del Banco di Solidarietà costola importante delle tante attività portate avanti dall'associazione Centro di Solidarietà. Quella di sabato scorso è stata però una consegna ancora più speciale, perché coincisa con l'inaugurazione del rinnovato capannone del Banco di Solidarietà, che si trova in via fermo, attiguo al Banco Alimentare, principale fornitore degli alimenti da donare. Vuole essere proprio un aiuto alla povertà praticamente, no? E quindi si fa proprio un lavoro molto capillare, perché noi prendiamo dal Banco Alimentare con una convenzione gli alimenti e poi li consegniamo direttamente alle famiglie. Quindi vogliamo fare proprio un lavoro di condivisione, non è solo un semplice volontariato, un far qualcosa, no? Ma vogliamo condividere la vita con le persone che hanno questa necessità. Lo vogliamo fare perché prima di tutto è un gesto educativo per noi, perché ci aiuta proprio a capire, no? Anche più il valore della vita, no? E quindi a fare un'esperienza di gratuità che veramente ci aiuta a guardare in modo diverso la persona. Il capannone e l'azione dei volontari hanno ricevuto la benedizione del Vescovo Sandro Salvucci, l'applauso dell'assessore Pandolfi e del consigliere Redaelli per il Comune di Pesaro, oltre a quello di Andrea Biancani, per la Regione Marche. I circa 10.000 euro di spese di riqualificazione della struttura hanno avuto il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e di Unicredit Foundation. Abbiamo avuto questi locali incomodato gratuito, ma la manutenzione la dobbiamo pagare noi, no? Quindi oggi vogliamo far vedere un po' la ristrutturazione, che è anche una cosa semplice. C'è tutta la controsoffittatura, è stata fatta la tinteggiatura dei locali, per avere dei locali un po' più puliti e anche più funzionali. Però abbiamo voluto far coincidere anche la consegna dei pacchi, così che si possa vedere cosa fa il volontario che viene e che prende il pacco. La consegna dei pacchi approda nelle case di Pesaro, Montelabate e Vallefoglia come punto d'arrivo di una macchina di solidarietà ancor più ampia. Con un'apposita convenzione riceviamo gli alimenti dal Banco Alimentare, che li riceve dalle grandi distribuzioni. Quindi il Banco Alimentare dona agli enti caritatevoli e noi siamo uno di quelli. Quindi noi riceviamo principalmente dal Banco Alimentare. Poi c'è un altro gesto molto bello che facciamo, che è il donacibo, lo chiamiamo così. Andiamo nelle scuole, nel periodo prima di Pasqua praticamente, e andiamo nelle scuole primarie, la scuola elementare e scuola media. Andiamo lì proprio per insegnare agli studenti un gesto di gratuità e questa cosa è tutti i prodotti che vengono raccolti nelle scuole e vengono poi portati qui al Banco. Eterna giovinezza, mito o realtà? Questa è la domanda a cui ha cercato di dare risposte il convegno organizzato ieri dall'associazione 50 e più di Confcommercio. In questo servizio quindi andiamo a vedere alcune anticipazioni dello speciale che poi trasmetteremo su Rossini TV, venerdì 27 ottobre alle ore 21 e 40. Eterna giovinezza, mito o realtà? Siamo venuti questa mattina al convegno organizzato da Terziario Donna, 50 e più, Estella Scarpa, Beauty Expert, riguardante una tematica che è veramente fondante. La terza età è come vivere bene la vecchiaia che in effetti abbiamo ormai, ci sono dati ben precisi, ben individuati, che ci dicono che è scalata di diversi anni rispetto al passato. Sono tante le tematiche affrontate in questo convegno. La più interessante sicuramente è quella che riguarda l'epigenetica, cioè come effettivamente il DNA influisce, cioè i nostri geni influiscono sul processo di invecchiamento, ma come far sì che questo processo di invecchiamento possa effettivamente cambiare con gli stili di vita. Oggi, considerando che nel 2023 circa il 24% della popolazione è ultra 65enne, è chiaro che tutelare il ruolo di un quarto della popolazione italiana è un compito non da poco. 50 e più è una delle tante associazioni che in Italia si occupano di questo. Noi, in particolare a Pesaro, abbiamo deciso e scelto di dedicarci soprattutto alle questioni relative alla salute e al benessere psicofisico. Nel cercare di raggiungere i nostri obiettivi di tutela di tutta questa fascia della popolazione e cercando di declinarli attraverso la lente della salute, ecco, quest'anno siamo arrivati, dopo varie esperienze ormai che si tramandano da dieci anni, a parlare di epigenetica o argomenti simili a questi. Cioè, infatti, il nostro comportamento quanto è importante all'interno di un DNA che ci viene dato per natura. Insomma, quanto dobbiamo in qualche modo sottostare alle leggi della natura e quanto noi, con i nostri comportamenti, possiamo cercare di migliorare la nostra vita, soprattutto nella sua durata e nella sua qualità. La genetica ci ha insegnato che noi, quando si nasce, abbiamo il nostro destino segnato. L'epigenetica, molto più confortante, ci dice che in fondo noi possiamo agire sul nostro itere biologico e quindi modificare in fondo ciò che madre natura ha determinato. La popolazione, comunque, sta diventando molto più longeva e quindi, chiaramente, è un argomento molto interessante e noi, come imprenditrici, vogliamo affrontare per tempo questo argomento, stimolando, diciamo, le nostre associate a creare imprese o quelle che hanno già in questi settori. È impossibile non invecchiare, ma è possibile invecchiare bene e soprattutto ad un ritmo giusto, sostenibile. Noi lo definiamo uno slow life, uno slow aging, quindi delle azioni slow che vanno a rallentare nel nostro quotidiano proprio l'invecchiamento. Quindi per noi è proprio un volere trasferire tutte delle nozioni che a volte rimangono anche un pochino nascoste e non vengono comunicate al meglio e soprattutto vorremmo che questo incontro di oggi potesse anche sdoganare un pochino il concetto classico di bellezza e far rientrare proprio in quello che poi il termine estetica riconduce, no? Se pensiamo che deriva dal greco il termine estetica, estesis, e vuol dire proprio percepire. Quindi ritornare ad una percezione di sé in maniera più sana. Ed ora lo spazio dedicato allo sport, andiamo a vedere i risultati delle partite di questo fine settimana. Non arriva la prima gioia alla Vitri Frigorena. La VL cede a Scafati al termine delle montagne russe di una partita trascinata all'extra time che finisce 107 a 103 in favore dei campani. Parte malissimo la squadra di Buscaglia che chiude il primo quarto con un avvilente 14 a 34 e non migliora eccessivamente nel secondo parziale andando a riposo sul 30 a 47. Si prospetta una domenica flop e invece nella ripresa parte una galvanizzante rimonta di una VL presa per mano dalla grande voglia degli italiani Totè, Tambone e Mazzola che trascinano al pari in un quarto quarto in cui Pesaro mette anche il muso avanti ma Scafati rinviene fino all'86 pari che porta la contesa all'extra time. Scafati che riemerge nel supplementare e vince guerra di nervi e partita. A Serie B interregionale arriva la prima sconfitta stagionale per l'Ital Service Loreto Basket che dopo tre successi di fila perde a Roseto 74 a 70. Dal basket al calcio al Benelli si materializza invece la prima gioia stagionale nello stadio amico per la V Spesaro che batte 1 a 0 la Re Canatese venendo a capo di un match estremamente combattuto grazie alla rete segnata dal 19enne da Pozzo, bravo a ribattere in rete la respinta corta del portiere leopardiano su violenta conclusione di Di Paola. Respira in classifica, la Vizchi ottiene la seconda vittoria stagionale e il quarto turno utile dopo tre pareggi consecutivi. Nel calcio a 5, seconda sconfitta consecutiva per l'Ital Service che cade ancora in trasferta. A Ponzano-Vento vince la Came Treviso per 5 a 2. Nel primo tempo Murillo Schiocchette e Denner ribattono colpo su colpo ai due vantaggi dei Veneti andando all'intervallo sul 2 a 2. La squadra di Scarpitti cala nella ripresa e la Came ne approfitta con tre gol che disegnano un punteggio finale troppo severo. Terza sconfitta su tre uscite per la Fiorini-Pesaro-Rugby imprecisa e sprecona che al Tecnovo Rugby Park di Muraglia cede sul finale al Patavium Union Rugby dopo una bella rimonta. I Veneti chiudono sul 18-20 finale concedendo ai Kiwi giallorossi il solo punto di bonus offensivo. Gioia invece nel volley con la seconda vittoria consecutiva per la Megabox Vallefoglia ancora in rimonta, ancora in trasferta. Le Tigre vincono a Cugno 3 a 1. Dopo il primo set ad appannaggio delle Piemontesi con un netto 25-13 le ragazze di Pistola riemergono e vincono i tre set seguenti prendendosi l'intera posta. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi ma vi ricordo che tra pochissimo potrete vedere il nuovo trailer che vi presentiamo, il trailer del Festival GAD di questa sera è 9 giorni, la storia di Paolo che tornò dalla guerra di Russia. Lo spettacolo realizzato dalla compagnia Teatro Viaggio Indipendente di Settimo Torinese sarà in scena venerdì 27 ottobre alle ore 21 al Teatro Rossini e vi ricordo che il trailer più votato riceverà il premio Rossini TV in occasione della cerimonia conclusiva che ci sarà proprio questa domenica. Potete votare, chiaramente il vostro trailer preferito, sulla pagina Facebook Amici della Prosa. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, andiamo a vedere la programmazione di questa sera su Rossini TV e allora questa sera vi mostreremo alle 21.20 l'Assemblea Generale di Confindustria che si è tenuta a Palazzo Ducale di Urbino. E poi alle 22 spazio con lo sport perché vi trasmettiamo la partita in casa di Pesaro Rugby contro Patavion Rugby Union. E vi ricordo chiaramente l'appuntamento con la nostra rassegna stampa di domani mattina. Vi aspetto quindi in diretta sul canale 80 alle 7.20. Buona serata.